Chiude a Napoli la palestra di Pugilato che ha aiutato tanti ragazzi a rischio togliendoli dalla strada. Un presidio di legalità, una zona sottratta alla camorra, spiega il maestro Lino Silvestri, figlio di Geppino Silvestri, leggenda della box napoletana, che ha cresciuto campioni come Patrizio Oliva e Elio Cotena. Ho sempre pagato quanto previsto dal contratto che si glammo 23 anni fa, chiarisce Silvestri, Silvestri, a rischio sgombero per morosità di fitti, contestata dal comune proprietario dei locali. Hanno fatto di tutto in questo posto, la camorra e non. Io l'ho preso e ho lottato prima con la camorra. Tentativi di estorsione, un tentato omicidio che ho subito sulla mia pelle, anzi due. E noi ci troviamo in mezzo a una strada adesso. L'appello qual è? Sindaco, scendi da San Giacomo, non parlare più con Mattarella e col Papa solamente. Vieni in questi vicoli e vieni a vedere che cosa facciamo per i ragazzi. Vieni a vedere soprattutto dove stiamo, che probabilmente qualcuno gli avrà detto che noi ci troviamo a Via Chiaio, Via dei Mille. Noi siamo a Vicoletto Sottomonte e Ventaglieri, vicolo di armi, droga e pugilato. Ciud è un'attività che ha aiutato ragazzi difficili, di un quartiere difficile e non solo di una città difficile. Molti di questi giovani che hanno famiglie disastrate, la palestra è l'unica soluzione per non fare altre cose. Il Comune di Napoli ha fatto sapere che è stato indetto un tavolo dal sindaco Manfredi per trovare una conciliazione che salvaguardi le attività a favore dei giovani e delle fasce deboli, dicendosi disponibile ad incontrare i gestori della Napoli Box.